Sì, una partita molto difficile, lo sapevamo, abbiamo preparato la partita bene con il mister e il suo staff. Adesso la cosa più importante è che abbiamo preso i tre punti. È quello che ci ha chiesto il mister di fare, è quello che chiede sempre dal gruppo, chi entra, chi inizia la partita, deve essere determinante e credo che oggi abbiamo dato il massimo e grazie a Dio abbiamo portato i tre punti a casa. Prima di tutto Dursi è un bravo giocatore, noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di tutti per centrare un oggettivo ben chiaro, quindi l'arrivo di Dursi può dare solo una mano alla squadra. È molto fondamentale, prima per la squadra e per me. Va bene, io ho avuto un paio di situazioni, un paio di infortuni che mi ha tenuto un po' fuori, c'è dentro fuori, però l'importante è la squadra. Adesso sto bene e cercherò di dare il massimo per la squadra. Esattamente, esattamente. Godiamo questa vittoria perché è molto importante e poi da domani iniziamo a preparare la partita di Monti Rossi. Grazie. 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 Grazie.